Si apre con il libro dedicato alla storia marittima della città di Agropoli, la tredicesima edizione del Settembre Culturale al Castello. Il comandante della Guardia Costiera di Agropoli, Giulio Cimmino, e il maggiore della Guardia di Finanza, Gerardo Severino, direttore del Museo Storico e comandante Centro Studi Storici e Beni Museali, quartier generale e guardia di finanza, hanno presentato il libro Storia dell'autorità marittima nel paraggio di Agropoli. La rassegna quest'anno è dedicata alle vittime del Covid ed in particolare la serata di apertura ed il libro presentato è stato dedicato ad un giovane cittadino agropolese, Biagio Manganelli, che lo scorso anno perse la vita proprio nelle acque antistanti il porto turistico agropolese. Abbiamo dedicato per l'appunto la rassegna di quest'anno alle vittime del Covid, in particolare ai nostri concittadini e al personale medico, il paramedico e tutti coloro, le varie associazioni, Croce Rossa, Protezione Civile, tutti coloro che si sono prodigati nel nostro territorio in questi mesi veramente difficili. La rassegna quest'anno veramente si è amplificata sempre di più nonostante le difficoltà ed è molto bella la dedica che gli autori, che ringrazio vivamente per il lavoro svolto il comandante Cimmino e il maggiore Severino, hanno voluto dedicare a Biagio Manganelli questa opera e la cosa ci emoziona veramente tantissimo. Noi abbiamo voluto mettere nero su bianco anche per dimostrare che non è una cosa nata ieri ma insomma che ha un suo retaggio storico e quindi vale la pena studiare questa bella storia del Cilento. Non dimentichiamoci che proprio in questo territorio c'è il Parco Nazionale del Cilento che è anche il Parco Marittimo di Castellabate, insomma quindi sono territori nei quali questi uffici hanno veramente svolto un'attività importante. Il ruolo che questi uomini hanno avuto anche nella salvaguardia del patrimonio storico e archeologico è imponente, insomma ecco ancora prima che in questi posti arrivassero i primi reparti della Guardia Costiera, insomma c'era la Guardia dei Finanze, prima ancora c'erano le guardie doganali del Regno delle Due Sicilie e prima ancora di loro c'erano le guardie delle torri, insomma noi sappiamo benissimo che il nostro territorio è ricco di torri costiere, quindi questo ci conferma quanto sia stata importante anche la vigilanza che è stata fatta e soprattutto in occasione dei naufragi, insomma quindi quando queste comunità si rendevano conto che un'imbarcazione stava per affondare, insomma cercavano di salvare gli equipaggi e eventualmente anche di recuperare come poi è stato fatto gran parte dei carichi. Questo libro effettivamente è stato redatto sulla scorta delle fonti storiche che riguardano la marittimità, quindi tutto ciò che concerne l'attività sia dell'autorità marittima ma anche dei pescatori e di coloro che negli anni, siamo partiti dal 1200, hanno contribuito a rendere grandi comunque questi territori anche dal punto di vista marittimo perché non dimentichiamo che l'attività marittima costituisce il primo motore di sviluppo del territorio anche dal punto di vista gastronomico oltre che turistico, quindi è bello scoprire poi attraverso la storia come queste mete climatiche in realtà sono sempre state mete turistiche di elezione, lo vediamo oggi ma in realtà anche delle raffigurazioni storiche ci testimoniano questa circostanza. Pensate, questa è una ricostruzione storica che parte dal 1200 e arriva fino ad oggi e racconta sostanzialmente le autorità che si sono succedute, il controllo dei nostri porti. È una storia molto bella in cui si ricordano tanti personaggi che hanno fatto la storia della nostra città, quindi dai marinai a tutti coloro che hanno lavorato in questo ambito. Il Comune si è fatto da parte di Legende in questo senso ed è un libro che potrà essere a disposizione di chi lo richiederà, di questo come ho detto vi fa piacere, è molto importante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.